Ciao a tutti, sono Martina della Samobar Viaggi e adesso vi faccio vedere come effettuare un ordine tramite QR Code. Cos'è il QR Code? Il QR Code è questo codicino qua che ha memorizzate delle informazioni in grado di essere lette tramite uno smartphone. Utilizzarlo è molto semplice, basta aprire la propria fotocamera e puntarla sul QR Code. Appare una notifica e ci clicchiamo. Qui è possibile leggere il menu. Dopo aver scelto la domanda di preferenza basta chiamare il personale e effettuare l'ordine. Come vedete ho appena fatto un ordine e ho pagato con il braccialetto ZMSC. Un braccialetto che serve anche per monitorare gli spostamenti a bordo di una crociera. È molto super crociera. seguitici sul canale YouTube ed iscrivetevi. Ciao!